Quando parliamo di moda vittoriana, in realtà, di che moda stiamo parlando? Non sarebbe meglio dire... Mode vittoriane? L'epoca vittoriana durò infatti più di 60 anni, dal 1837, anno dell'incoronazione della regina Vittoria, al 1901, anno della sua morte. La moda proveniva dalla Francia e cambiò drasticamente nel corso del regno della regina Vittoria. Iniziamo a parlare del decennio che va dal 1840 al 1850. In questo periodo la donna ideale è la donna remissiva, timida e non troppo in salute, sembrare troppo in salute era decisamente troppo volgare. Nel 1840 cominciano ad andare di moda dei corpini molto lunghi, con la vita bassa. Il corpino finisce a punta, le maniche sono aderenti e cominciano ad allargarsi solamente dopo il 1844, ma dal gomito in giù. Compaiono delle nuove manichine corte, al di sopra delle maniche stesse, chiamate jockey, ossia da fantino. Le gonne vengono tagliate senza carta modello e piegate in vita per distribuire l'abbondanza. Il corpino dell'abito viene tagliato un po' più abbondante e modellato sul corpo grazie a delle pants che partono dal seno e finiscono al centro nella vita. La parte più abbondante a volte viene piegata e poi cucita dalla vita in giù. Questa sezione dell'abito frontale, dalla metà del 1840 circa, verrà realizzata utilizzando un pezzo diverso di stoffa e non quella direttamente del corpino. Questo taglio peculare, legato anche alla scollatura molto ampia e bassa degli abiti da sera, darà a questo periodo la classica forma ad ogiva, tipica del 1840. Particolare è anche la cucitura delle maniche, che è molto indietro e molto in basso rispetto alle spalle. Le scollature d'aggiorno invece solitamente sono delle profonde V. Dal 1846 compaiono i corpini con baschina. Questa baschina, nel momento in cui si indossava una gonna a balze, spesso diventava praticamente la prima balza della gonna. Ma torniamo alle gonne. In epoca vittoriana le donne erano molto furbe riguardo al loro aspetto. Per far sembrare la vita ancora più stretta, riempivano le gonne. Indossavano più e più sottogonne, anche di crine di cavallo, per mantenere quella forma tipica del 1840 a campana. All'inizio del 1840 le gonne a balze avevano una balza solamente sotto. Successivamente, fino ad arrivare al 1850, le balze diventarono sempre di più, aumentando ancora di più il volume della gonna stessa. Per uscire si faceva grande sfoggio di mantelli, pellegrine, mantelline e chi più ne ha più ne metta. In testa e in casa solitamente si portava una cuffietta che copriva la parte posteriore della testa, mentre per uscire erano molto più comuni i bonnet, che coprivano quasi del tutto la visione delle donne, specialmente alla fine di questo periodo. Lo stile sobrio e un po' puritano di questo periodo si rifletteva anche nelle decorazioni dei vestiti e nella gioielleria. Erano pochissime le decorazioni, se non delle arricciature, delle ruches e cose di questo genere. La gioielleria era composta principalmente da spille che venivano portate al collo, niente di più. E passiamo direttamente al 1850-60. Questo è un periodo un po' di transizione tra il decennio prima e il decennio dopo. I corpini negli abiti rimasero pressoché gli stessi, a parte il fatto che la vita si alzò arrivando al livello normale e che spesso si portavano camice e giacche sopra. La giacca con baschina diventò quella più comune, la baschina davanti era più corta e dietro solitamente si piegava in una coda. La gonna continuò ad essere molto ampia e voluminosa. Il volume era dato dalle sottogonne, ma dal 1856 anche dalla crinolina, ossia una gabbia fatta di anelli di metallo che serviva a sostenere la gonna e a darle ancora più volume. Un'innovazione nel vestire arrivò nel 1850 e fu una differenza nelle maniche. Queste adesso erano a pagoda, cioè più larghe verso il polso. Di solito venivano indossate sopra delle fini maniche in batista che comunque coprivano il braccio. L'utilizzo massivo delle crinoline portò le gonne ad essere più leggere e più mobili. Per questo motivo a volte era possibile vedere le scarpe o le caviglie delle donne. Fu per questo che si diede molta più attenzione alle calzature, che divennero un po' più carine. Nel decennio tra il 1850 e il 1860 si alternarono le maniche a pagoda a quelle a lanterna, ossia ampie e strette sul polso. La silhouette non si modificò in maniera drastica, ma adesso, nonostante fosse ancora campana, era più sottile sopra e più larga sotto. Le gonne più indossate restarono quelle a balze, solo che aumentarono le balze e si alzarono verso il corpino. Due grandi invenzioni caratterizzarono il mondo della moda nel 1850, l'invenzione della macchina da cuscire e l'invenzione del malva, la prima tinta sintetica per vestiti. Un fenomeno che purtroppo non influenzò alla moda, ma che è importante comunque nominare, è quello delle bloomers, ossia delle femministe che nel 1851 inventarono un vestito chiamato riformato. Il vestito era molto più corto e sotto la gonna si indossavano dei pantaloni alla zuava. Passiamo al 1860-70. Questo decennio è ricco di innovazioni e anche all'interno del decennio stesso le cose cambiano spessissimo. Cominciamo con il parlare della silhouette. Le gonne erano ancora grandissime, solo che adesso erano più piatte davanti e più lunghe verso il retro. Oltre al corpino a baschina che era ancora molto di moda, le donne iniziarono ad indossare per le occasioni meno formali bluse e camicette. La vita era evidenziata da cinture, nastri, fiocchi e stringivita. Le gonne cominciarono ad essere tagliate in teli, ossia con dei pannelli che componevano l'intera gonne e potevano essere di numero variabile e di variabile grandezza. Molto spesso sulle camicie o sulle bluse veniva indossato un bolero. Le maniche passarono da essere a pagoda, di nuovo a lanterna, poi di nuovo a semiaderenti. Nella realizzazione degli abiti fu inserita una tecnica chiamata princese, ossia principessa, dedicata alla principessa Alessandra del Galles, che non prevedeva più tagli in vita. La sobrietà così di moda nei primi anni vittoriani comincia a pesare un po' alle donne di questo periodo. Nel 1860 i vestiti da sera diventano molto meno sobri e molto pieni di decorazioni. Le gonne diventano minimo due, che si vedono entrambe, le balze finiscono sul fondo e si porta molta più gioielleria, specialmente fili di perle, un vezzo importato dall'imperatrice Eugenia. Un altro importantissimo elemento viene aggiunto ai vestiti di questo periodo ed è lo strascico, che anticiperà un pochino la moda dei prossimi decenni. Per oggi con la moda vittoriana ci fermiamo qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi a questo canale e se siete appassionati come me di moda, allora condividete questo video sui vostri social. Noi ci vediamo la prossima settimana, a presto!